Don Sa, a disposizione dei giornalisti, iniziamo da Claudia Berlingeri per la Gazzetta del Sud. Buongiorno, dopo la vittoria con la capolista Pisa, subito si torna in campo per l'anticipo contro l'Alessandria. Che gara sarà? Perché bisognerà dare continuità all'ottima prova con il Pisa. Prima io le dico che grazie a Dio abbiamo vinto con la capolista, però è una gara come abbiamo fatto con la capolista, quindi non cambia niente. Di solito atteggiamenti, non dobbiamo sbagliare sull'atteggiamento e poi dopo vediamo cosa succede. Vincenzo Montalcini, FC Radio e Il Quotidiano del Sud. Non è stata una partita facile per te perché sei entrato a freddo, un pochino così, però poi con il passare dei minuti hai preso padronanza e sei stato molto importante. Hai dato anche un pizzico di esperienza nei momenti importanti, non serve anche questo alla squadra per crescere e ragionare nei momenti importanti? E poi tu come stai? Perché la mia impressione è che hai bisogno di giocare per riacquistare il ritmo partita. Sì, ho bisogno di prima di allenarsi bene perché gli altri non lo sanno, io sono venuto qua senza che ho fatto il ritiro con i Bologna, quindi ero troppo dietro, indietro fisicamente, però adesso piano piano mettendo a disposizione il mister mi fa lavorare, quasi lavoriamo bene, quindi piano piano sto riprendendo il fiato, quindi dobbiamo continuare così e cercare di lavorare sodo e seguiamo il nostro mister. E poi mi sa che ci riusciamo a dare continuità come abbiamo fatto. Giuseppe Rivadotti, la provincia Cappera. Dopo otto partite hai i tuoi minuti giocati, nel contesto in generale, come ti sei inserito in questo campionato e nella squadra del Crotone? Io mi sto inserendo piano piano bene, l'ambiente mi accoglie, il mister mi dà le indicazioni. Poi qua, la Serie B è una campionata tosta, che in base a quella di Serie A c'è un po' di spazio, ma qua vengono tutti forti, quindi mi dà le indicazioni anche i ragazzi che sono qua da tanti anni mi stanno aiutando molto, quindi piano piano mi sta ambientando per bene. A chiudere, Giuseppe Romano, CN24. Come vive lo spogliatoio? Uno spogliatoio che è fatto più che altro di giovanissimi. Sì, stiamo aiutando a vicenda in spogliatoio perché, come hai detto, siamo giovanissimi e poi c'è altri che hanno vissuto, c'è quelli che hanno venuto dalla primavera, c'è altri che hanno giocato tanti anni qua in Serie B, quindi ci aiutiamo a vicenda e lo so che piano piano tutti andiamo sulla stessa strada e facciamo bene.